ciao a tutti ragazzi bentornati in live ed eccoci qua in live di nuovo su twitch ecco qua si sente e siamo in live su twitch ma siamo in live soprattutto su god of war per ps4 ovviamente l'ultimo gioco uscito dei god of war e nulla allora un attimo svegliamo il nightbot ecco qua e niente possiamo partire dai allora vediamo un po se scegliamo ventura abbastanza impegnativa combattimenti intensi è un verbolo full vabbè insomma ma facciamo questo esperienza equilibrata ecco kratos ecco ecco R1 Hai, di nuovo Ok Adio albero Oh, è questo qui il figlio Sali in barca ora Oh Ebbene quindi inizia così Diciamo il quarto gioco The God of War Con un crato su un po' invecchiato però Ci sta E c'è anche Il figlio Presumente Ragazzi Basta così Gli alberi marchiati Ok Ah, sì Scusate, sì Prima abbastanza Qualcosa è cambiato No, questa sembra Diversa ora Tutto è cambiato ragazzo Non pensarci Sì Ehm, questi sono nomi dei doppiatori Presuma Proprio così Sì, se la porti in spalla Come C'è un semplice sacco Insomma C'è un semplice sacco Oh, c'è un semplice sacco Ciao 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 Ehm, questo gioco ha vinto il premio come game of the year 2018 Battendo Eh, per 30 voti Per una trentina di voti Red Dead Redemption 2 Ho già di statuaggi Ecco, là io vedo mia madre Ecco, là io vedo mio padre Ecco, ora chiamano me 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale... era suo. Ma adesso è tu. Mi l'hai insegnato. Vediamo. Ora. Ok, quindi... Penso sia la mamma quella... che è morta, insomma. Ciao, dragone. E... No, non è noioso. Ma caccia con Atreus. Beh, si chiama Atreus, quindi. Allora, il morto... penso sia la mamma... o uno, comunque, dei genitori del piccolo Atreus. È quel che ho capito. Comunque, tutto bene. Grazie, dragone. Tu come va? Ehm... 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 Vabbè... Vediamo se quest'altro si può... Vabbè... Vabbè... Sì, insomma... La forza delle... Dell'armo. Bene. È un po' di merda. Eh... Vabbè, sì. Anch'io, dai, non proprio completamente tutto bene. Però dai... Difficile, vale sempre tutto bene, insomma. Allora, spieghi qua, così. Oggetti smarditi. Eh... Melissa, non lo so. Eh... Non lo so. Non lo so. Penso... Oh, wow. Un peggio. Non lo so. Penso... Uno dei parenti... di... Atreus. Chi è... Il figlio. E ora... Oh. Di qua, ragazzo. Oh. Oh. Ehi. Tracce fresche di centro. Di qua. Se non è uno spoiler... Sì. Cioè, è una cosa che si può capire, insomma. Altrimentino. No. Pianto, ragazzi. Scusa. Il cervo va a cacciato. Non il pulso. Sì, padre. Ahia. Ha rotto il ponte. Come arriviamo? Spostati. Mi lascia? Ah. Fantastico. Belle corna. Devi tirare. Devi tirare. Devi tirare. Quando te lo dico io di farlo. Mi dispiace. Non dispiacerti. Fa... di meglio. Trovalo. Trovalo. Vai. Devi stare più attento. Atreus. Oh, cazzo. Vabbè? Non era morto. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Ah, va bene. Sarò un po' parte della storia successiva. Allora, va bene, puoi dirlo. L1 per bloccare. Ah, ok. L1 per bloccare. Wow. Wow Ok Pietre curative? Ah ok, sono queste cose qui Ok, la moglie... ah ok, e la madre Ah ok, come avevo immaginato La moglie non... No, non... Non pensavo Ok, quindi... Suo figlio, quindi Perfetto Belle corna Facciamo ciò che ci pare Niente scuse Dai, vediamo qui, vai Apriti senso, ma andiamo Guarda Chi c'è? Posso usare l'arc ora? Riesci a colpirlo da qui? Eh Meglio avvicinarsi Bravo Bravo Sì 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 Ok Ok Ok, ma così loro... Ah ok, vedi, così lo locca Con R3 lo locca Si può passare? No No dai, non sembra così... Rompi i coglioni Come li ho lancia questa cosa? No, non... Non lo lancia Vabbè Vabbè Maledetio Vabbè Andiamo avanti con l'attacco caricato Ok Chi rimane? Aia Vediamo, eh Oh, cazzo Bello Oppure sei l'ultimo, giusto? Sì Ma che Troppo facile, secondo me Cosa c'è qui? Vai, vai Dove andare, no? Eh Eh, e ora? Di qua? Ah Ah, giusto Così la posso lanciare, giusto? Ok, altrimenti non la lancia Quindi se la lancio qui, vediamo No, non... Non fa danni Se la lancio qui Beh Non dovesse andare? Oh Eh, che minchia vi fare, scusa? Vediamo Vedo qualcosa al su Vedo qualcosa al su? Qualcosa? Ah Ah Ok Ok, capito Quindi c'è da vedere anche qualcosa, vediamo Ok Se Se riprendiamo l'ascia Eh Ecco qua Eh, un attimo Cosa c'è di qui? Ah Ah, posso salire? Sì Vediamo Eh Cosa abbiamo? Ah no, quelli... Sono quelli della vita Oh Aia Dai c'è il... La neve, dai Ok Ok Ok, quelli esplodono quindi Che cazzo abbiamo? Un masso di... Di massi, appunto Eh Dai ce lo giro, dai, poverello Dai, dai Dai, vediamo Ok È bello il fatto che si possano distruggere queste cose Hmm, che cosa abbiamo? Ragazzi, dai qua Sono Scoll e A, i giganti lupo che cacciano il sole e la luna Da dove vengono? Come ci sono finitos? Come finisce? Mangiano il sole e la luna e poi tutti si mettono a combattere Hmm Eh, vedremo, dai Dragone, va bene Vedremo, però Oh, qua, è vero Stavo soltanto questo Ah Di qua, vabbè, uguale Qui Niente Niente, possiamo scendere Ah, qui Che c'è? Lui non può più usarla Noi sì Argento? Ha preso, boh, da una tomba, immagino L'argento Di qui da dove siamo usciti Vero? Sì Eeeh, ok Andiamo Tieni premuto L2 e muovi R per mirare il cerco Spallo del tempo Spallo del tempo Spallo del tempo E spiro e lascia E dai E dai Ecco Che belle corna No Finisci ciò che hai iniziato Non ci riesco Povereto fuori oh cazzo che cazzo è questo che cazzo dice? oh porca puttana allora cioè hai visto che dov'è? eh beh dai però l'era detto Kratos via ha obbedito al padre allora dimmi quando devo dire vai vai oh l'ho preso in faccia vai 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 io l'ho preso in faccia ahi 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 che cazzo levate 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 ecco oh cazzo ah va bene dragone grazie per essere passato allora grazie per la compagnia come sempre e alla prossima vedremo se odiare o meno Atreus aia alla prossima aia aia vale liè aia aia Alla, lìa. Lo farò solo? bella lì perfetto l'abbiamo ucciso sei pronto cosa dici sul serio ho ucciso il cervo ho superato la prova e perché non lo sarei non sto più male da molto tempo posso farcelo non so ne ho fatto tanto sono pronto ah aspetta però uh che scatto bestiario aggiornato daudi kaup mad a terra ok andiamo allora barra di stordimento si trova sotto quella della salute ok vediamo cosa fa la barra si riempirà si superano attacchi rapida successione che infliggono danni da stordimento una volta riempita il nemico sarà stordito premi re 3 per afferrarlo l'attacca con le frecce e quelle a mani nude infliggono maggiori danni da stordimento kratos passerà gli attacchi a mani nude lanciando l'ascia o riponendola premendo il tasto vabbè destino del frecce mmm wow bella lì bella lì ok ciao papa margus hi welcome si non mi stai seguendo you're not following me allora posso salire ok aspetta 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 ok ok vai ok ma posso salire inglese vediamo cosa è questa zitto zitto oh è murato non mi viene andato ah qui questo qua è un fuoco vai altri che quale è oh devi stare devi stare zitto ahahah un ottimo trattamento direi devi stare zitto che scatto minchia si è tenuto si è tenuto i sandali alati di chi erano non mi ricordo eh anch'io qual è alberi marchiati perché un troll brandifuoco ha bruciato il giardino di mamma da quando i drogher si avvicinano a casa e cos'era quella cosa di ghiaccio ora sta zitto ora sta zitto l'importante è che lui sta zitto qui dove andiamo? qui dove andiamo? ah ecco qui vabbè risaliamo che? no niente va ok va vai quindi che si fa? si entra? vai vabbè vabbè ragazzo guarda quando stai zitto vabbè 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 Grazie a tutti. Quindi siamo dentro, è abbastanza spazioso dai direi, non è piccolino, non è gigantesco però non è piccolino. Sto male, sto meglio. Va bene. Forza. Devo colpirlo. Voglio che ci provi. Ehi, che fai? Riprovaci. Perché fai così? Sei lento, di nuovo. Smettila! Tiaco, ancora. Ancora! Smettila! Ancora! La tua rabbia rischia di acciacarti. Il nostro cammino è difficile. E tu, Atreus, sei tutt'altro che pronto. Cosa? Vieni fuori! Ok. È inutile che ti rintani lì dentro. Io so chi sei. Chi c'è là fuori? Tu lo conosci? Ma soprattutto io so che cosa sei. Presto, vai lì sotto. Ora! Mi avevi proibito di andarci. Ma chi è? Non lo so. E di cosa vado? Non lo so. Forza! Dimmi solo quello che voglio sapere. Mi ti amo spargimenti di sangue. Chi è questo? Credevo più a chi. E' proprio te che cercano. Sei lontano da casa o sbaglio? Che cosa vuoi? Tu la sai già la risposta a questa domanda. Qualsiasi cosa cerchi, io non ho niente. Te mi devi andare. E io che credevo che la vostra specie fosse più illuminata. Che voi foste migliori di voi, più intelligenti. Invece tu ti nascondi qui, nella foresta, come un gran codato. Non ti conviene combattere. Non vedo l'ora di farlo. Fuori dalla mia casa. Te l'avevo detto. Non importa. Oh. oh l'ho sconosciuta? mi rimane da aspettare che si colpisca prima aia maledetta maledetta oh non sei informa non 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 n non mi non 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 No te nascondi! Non ho tempo per questo! Non andiamo! No! Che! 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 C'è una noia mortale! Ma te nascondi! C'è una noia mortale! Ok, dopo questa diffusione di forza bruta dovrebbe essere morta, no? Dovrebbe condizionare. Dovrebbe condizionare! Dovrebbe condizionare! Ah, ecco. Mi sembrava strano. Oh, cazzo! E quel corpo, ormai vecchio, cederà! Sappi che non posso sentire niente di tutto questo! Aia! Wow! Dov'è? Aia! Continui a provare! Io non sono mio fratello! Se tu mi avessi dato su che volevo, non sarebbe finita così! E invece... Speriamo sia la volta buona! Puoi battermi! Mi np. Cosa! 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 Maledetto 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 Alla fine vincerò io Maledetto Miserabile Lo sarai tu Maledetto 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 a sentire qualcosa vediamo l'abbiamo fatto sentire qualcosa quindi sarà più contento sperando sia la volta buona dovrebbe essere la volta buona dovrebbe cosa devo fare non sto finendo la vita non c'è nessuna la vita non c'è nessuna ma credere sarà in mezzo distrutto immagino ragazzo sentivo dei rumori io credevo tu stai bene sì io sto bene vieni prendi le tue cose ti amo ma sono pronto non sei pronto ma non abbiamo scelto ora ma la nostra amica lo farà oh il viaggio inizio completato gli alberi marchiati bene bene sentite un attimo qui posso andare o no se no boh seguimi Atreus e qui c'è altro non si profondamente non si profondamente aspetta 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 oh tu ti muro non lasciarmi più solo va bene non mi ricerla fare si Quindi sono morti. Mi ha già ucciso delle persone qui. Se ne abituate. Mi si asserbe verso per tic. Sui animali va bene. Sono uciti. Le droghe sono già morte. Ma le persone... Anche loro non si vengono. Giunti il tuo cuore. Nel nostro viaggio sarebbe sempre più oltre a dirgli. Dio di il cuore della loro sofferenza. Non può far male. Non può far male. Poi e vieni. Non è vero. 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 Non mi puoi dare una mano. Posso fare una visuale migliore? Questo qui cosa fa? Ah no però... ah ok devo congelare. Congeliamolo. Proprio lo lancia. Ma perché lancia le frecce? Fatto. Ragazzo. Ok da qua. Ok da qua. Ok. Ok. Ok da qua. Ok. Cosa? Adorare l'idea? Cosa? 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 Ok, qui? Sopra Bellissimo Per tutto il tempo Un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco Ma... Laggiù il cerchio è interrotto Li hai tagliati tu Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira E perché la fa? Andiamo Basta consapevole Che bello comunque Veramente 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 bellissimo No, da qui siamo arrivati, no? Vediamo Vediamo cosa si può fare Ok, possiamo scendere e... Ah, di qui? Di qui non siamo passati, ok Un bel salto Un bel salto No, 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 no No, 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 no Ecco O Cosplay Cell boh eravamo arrivati su quindi non credo si deva scendere ora qui non posso fare nulla scusate guarda possiamo salire non avevo visto che era scoperta limitare della foresta selvaggia altri droghe altri droghe altri droghe wow ok ok altri nemici a sinistra molto utile il sistema di combattimento che ti avvisi all'istante mantieni la pressione ahi ah Perfetto. Ti ho aiutato. Se vuoi aiutarmi di Strayle, concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Guarda. C'è un villaggio Jotna. Jotna? Gigante. Conosci altra lingua? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate, quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Oltre cose? Di qui, di vivo, vediamo. Vabbè, qui, 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 ok. Andiamo. Cos'è? Che cazzo? No, proprio è morto. Ok. Vediamo. Cadenza e tiri. La precisione non ha freddo. Sì. Perfetto. Ehi, non è un forchetto. Oh, bravo. Gigantesco. Tocco di Hell. Attacco runico leggero. Una rapida scarica di energia che ferma. Respinge tutti i nemici vicini. Vai. Bene, bene. Bene, bene. Trofeo bloccato. Tempo inutile alle 1, poi premi. Bellissimo. Sarà utile. Forse possiamo passare di qui. Oh no. Forza. Grazie. Non si sposta. Ecco la montagna. Andiamo. Aspetta. Che bella montagna. Vedi? Dove minchia va? Non fa lì. Ecco. Aiuto. Padre. Aiuto. Chi è di duro. Presto. Non ce la faccio. Stai calmo. Ci sono quasi. Che cazzo. Oh, 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 oh. Vaici piano. La fretta ci costerà cara. Come c'è? Scusa. Altri droghe. Non si muovono. Sono morto. Cioè, più morto. Ragazzo. Non sono per niente morti. Ok, vabbè. Ma verra mia ora, ok. Ricordati. Preciso e senza fretta. Attenzione! Broga, la sinistra! Vai, maledetta. Vai, maledetta. Vai, maledetta. No. Ma c'è la morte del gioco. Prima morte del gioco. Va bene. Vai, riparti. Ricordati. Preciso e senza fretta. Ah, prendetelo. No. Par Sick. maledetti allora stima dei venti dai li stimiamo subito ok ok altri cavolo fuggi dalle rovine eh l'ho visto lui è un alfabete oh un tempo era un mercato i giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo chissà forse anche un vino sopra di noi sta sbucando dal mura cos'è? sta sbucando dal mura oh cazzo mani a distanza maledetta ahia ma il figlio non muore che non può morire ma l'ho ma l'ho ma l'ho ma l'ho maledetto perfetto Ce l'abbiamo fatta, dai Ce l'abbiamo fatta Sembra una strega Qualcosa del genere Sembra che sia quella che sa lì Oh, minchia Ah, allora Eh sì, è una specie di strega Eh no Atenzione Facciamo piano, con calma Oh Bella lì Non pensavo di vederla da vicino Con pochissima vita ce l'abbiamo fatta E' una colpa, dai Bene Oh, che cosa possiamo acquistare? Prima di tutto Quanti ne abbiamo Ecco, abilità Se volessi acquistare questo Boh, non ho capito com'è Ah, ok, di qui C'è cosa acquista Altrimenti non puoi Ok Ok, vai Ok oh f**k qui male 10 no non lo fa prendere vabbè ahiyah ok maledetto guarda qui c'è c'è ho già visto questa lingua hmm perfetto il suo nome è Rummier mamma me ne parlò un guerriero gigante fatto di pietra sembra che fosse una grande battaglia vedo Dino, Thor, perfino il serpente del mondo oh Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? ma il corpo di Rummier lo schiacciò che idiota ma è un seronte vedi qui non possiamo andare ok 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 Che si fa? Ok Vediamo che abbiamo qui Bloccato Da una magia runica Tra i sigilli Uno è quello, no? Ecco, uno è lì Dai, eccolo L'altro L'ultima Beh, non lo vedo, è qui Ah, eccolo Non lo prenderò mai Vabbè Ovvio Andrei di lì, ma come? Vai No, sì Prima Hai detto che potrebbero raffinare Io li ammazzo se ci provano Non ho paura Se incontriamo degli uomini Ti terrai fuori Chiaro? Ma Su combattere Ti terrai fuori ragazzo Non parliamo più Abbiamo un po' Che abbiamo Mela di Idun Uno delle tre Necessario di aumentare la vita massima Ok Il cibo preferito dagli dei Perfetto Sarà buono Sarà buono Ah, ma tu guarda Non fa niente Non funziona Non funziona Va bene L'ulteremo l'alto Allora Oli Non si Allora hold alle Parti 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 Ch ges Chod Vabbè Dovresti tornare l'assù? Ma come? Seguimi Usa le frecce 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 Usa le frecce